Ciao a tutti ragazzi, sono Natron, oggi siamo qua con un, non con un videogioco, ma con un gioco da tavolo. Sì, perché a me oltre ai videogiochi piacciono tantissimo i giochi da tavolo, mi piace se giocarlo con i miei amici, da solo, mi piacciono i componenti dei giochi da tavolo, mi piacciono il tabellone, le miniature, tutte le varie segnalini, mi piace tutto dei giochi da tavolo. E quindi, siccome ho visto che non c'è moltissimo su YouTube Italia, ho deciso di portarvi dei report di questo fantastico gioco. Si chiama Zombicide, è un cooperativo dove i giocatori assumono il ruolo di spravvissuti napoletisti e zombie e devono portare a termine delle missioni con obiettivi differenti, cercando di non farsi uccidere dagli zombie che vengono controllati dal sistema stesso del gioco. E secondo me è un gioco molto molto carino e ben fatto, perché è ampiamente personalizzabile. Infatti possiamo fare qualsiasi tipo di missione, ci venga in mente, e secondo me è veramente fantastico. Ho deciso di portarvi appunto dei report di non riprendere l'intera durata della partita, perché secondo me riprendere tutta la partita che poi va a durare un'ora, un'ora e mezzo di più, veramente è stancante. Sia per me che ci metto la vita a caricarla, sia per voi che poi andate a guardare, insomma, guardare un'ora e mezzo, due ore di video, insomma, sì può essere piacevole, però secondo me a lungo andare è stanca, è stancante. Quindi ho deciso di fare semplicemente delle foto durante il gioco, principalmente a fine turno, e qualche volta anche non, e poi di commentarle e spiegarvi turno per turno che cosa è successo. In questo modo potete gustarvi una partita che magari può durare un'ora e mezzo, in 10 minuti. Questa era la missione, la partita introduttiva del gioco. L'obiettivo è quello di prendere il segnalino in alto. Sulla mappa composta da due tessere abbiamo la zona di generazione zombie in alto, due deambulanti che partono in strada, e poi il gruppo che a causa delle regole speciali parte senza armi, ma solo EMI che parte con una padella, perché le altre armi che normalmente sarebbero date in dotazione standard all'inizio di una missione, sono poste in cima al mazzo del equipaggiamento. Quindi la prima volta che effettuano una ricerca, trova proprio l'arma standard che doveva avere all'inizio partita. Inoltre c'è anche un'altra regola speciale che obbligava a utilizzare soltanto 5-6 carte del mazzo zombie, io però siccome non ho voluto rendere ancora più facile questa partita introduttiva, ho voluto complicarmi alla vita e ho utilizzato tutto il mazzo zombie, invece che quelle 5-6 carte che richiedeva la missione. Bon, quindi direi di partire per vedere un po' come è andata questa prima partita, questo primo report. Primo turno sopravvissuti, il gruppo si muove verso la porta, che poi va a dare sulla strada, e tra Nemi tutti effettuano una ricerca. Josh quindi trova un piede di porco, Ned cerca per ben due volte perché ha l'abilità che gli permette di cercare gratuitamente, quindi trova un ascia antincendio e una pistola, e Doug trova un macete. Primo turno zombie, i deambulanti in strada avanzano verso il gruppo, e a fine turno viene generato un solo deambulante. Secondo turno sopravvissuti, Josh sfonda la porta e Ned apre il fuoco nella zona davanti, cercando di uccidere il deambulante, ma non ci riesce, quindi Doug si fa coraggio, entra nella zona del deambulante, lo attacca e lo fa fuori. Poi Emy e Josh avanzano, mentre Ned, avendo già esaurito tutte le sue azioni, rimane indietro. Secondo turno zombie, i deambulanti avanzano verso il gruppo, e uno entra in linea di vista con Emy, mentre a fine turno viene generato un solo deambulante. Terzo turno sopravvissuti, Emy prova ad ingaggiare il deambulante davanti, ma non riesce a ucciderlo, quindi rientra nella zona di partenza, e viene raggiunta da Josh e da Doug. Anche Ned si muove, ma non raggiunge la stessa zona del gruppo. Terzo turno zombie, il deambulante davanti all'edificio persaglio entra nella zona del gruppo, ma non riesce ad attaccarli, mentre gli altri avanzano normalmente di una zona. A fine turno poi viene generato un altro deambulante. Quarto turno sopravvissuti, Josh attacca ed elimina il primo tentativo, non mi ricordo il deambulante, ed ottiene il punto di esperienza, Ned invece raggiunge il gruppo, e poi alla fine decidono di aspettare gli zombie per vedere come agiscono. Quarto turno zombie, tutti i deambulanti avanzano come di consueto, e a fine turno viene generato un altro deambulante. Quinto turno sopravvissuti, Ned spara nella zona avanti al gruppo, elimina lo zombie, avanza e spara anche all'altro zombie, ma non riesce ad ucciderlo. Josh in questo caso avanza, sfonda la porta, e per fortuna, per mia fortuna, vengono, perché sto giocando da solo ragazzi, cioè queste sono per ora partite che sto facendo da solo, visto che con il gioco si può anche giocare da solo. Josh, stavo dicendo, sfonda quindi la porta, e per mia fortuna, viene generato un solo corridore in tutto l'edificio, mentre Amy e Doug raggiungono i due compagni. Quinto turno zombie, il corridore e il deambulante entrano nella zona del gruppo, gli altri deambulanti avanzano, e anche in questo turno viene generato un altro deambulante. Sesto turno sopravvissuti, Josh uccide il deambulante in corridore, però non riesce a raggiungere l'obiettivo, ma fortunatamente Amy sfrutta il suo punto di movimento gratis, riesce a raggiungere l'obiettivo, e lo prende, ponendo così fine la partita, e portando a casa una bella vittoria per gli spravvissuti. Questo era il mio primo report, spero comunque che vi sia piaciuto, poi ne farò ovviamente altri, e quindi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!